Siamo con Fabiana Dadone, ministro della pubblica amministrazione per il Movimento 5 Stelle. Noi oggi siamo usciti con un comunicato anche abbastanza deciso sul fatto che bisogna programmare le misure su quelle che non che sono i numeri di oggi, perché in seguente i numeri di oggi noi finiremo sempre per rincorrere il virus, che essendo più veloce rischia che ci facciamo un DPCM settimana andando a stringere a poco a poco. Bisogna decidere qual è la strategia, perché le singole misure rischiano di essere fallimentari. Però se posso, dottor Vespa, bisogna anche un po' bilanciare gli interessi. Esattamente, voglio fare una domanda politica a lei e a Maria Stella Gelmini. In questo senso, perché è troppo facile dire, bisogna programmare tra quei 15 giorni. Il Governo fa un'attenzione notevole e il Parlamento incluso dal periodo di fine febbraio. Ci sono stati tavoli anche con le governance multilivello, quindi con le regioni e con gli enti locali. Si discute costantemente, si ascolta anche con ciò che viene detto dal CTS, però è chiaro che nel momento in cui aumenta il contagio, il Governo decide di intervenire, però sempre avendo un equilibrio tra quella che è la necessità economica di tutelare le esigenze degli italiani e l'attenzione sociale e l'altro lato tutelare la salute. È troppo facile dire, è più facile intervenire in maniera tranciana, chiudendo tutto. È ovvio che è complicato intervenire. Bisogna intervenire passo passo. Allora, Ministro, il Presidente dei Costruttori del Lancia dice smart working uguale no working. È probabilmente un'affermazione eccessiva, cioè chi sta in smart working non lavora, che è ingiusto, però i cittadini hanno un'esperienza abbastanza devastante. Ha solo in smart working, che significa in smart working? Se devono rispondere nell'ufficio rispondono attraverso internet, cioè da casa. Io non capisco perché è una pratica, non deve essere rallentata perché l'impiegato è smart working. Se ha il computer, ma ce l'ha, questo è il punto. Che computer ha? Deve usare il suo? Di computer? O io lo date voi? È collegato con il cervellone dell'amministrazione o no? Nella fase emergenziale, chiaramente essendo un'emergenza, sono state fatte delle norme per permettergli di utilizzare anche i propri dispositivi. Perché io trovavo giusto che di fronte a un lockdown del paese, la pubblica amministrazione continuasse a derivare i servizi. Chiaro che in questa fase, in cui ancora viene usato in una sorta di maniera emergenziale, è un ibrido e più un lavoro da remoto, che è un vero e proprio smart working. Perché il lavoro smart significa lavorare in maniera intelligente, in co-working, in spazi condivisi, non necessariamente da casa, ma anche in spazi che metta a disposizione l'amministrazione al di fuori dell'ufficio. Ciò che importa è che il risultato venga prodotto. Quindi è chiaro che i ritardi non ci dovrebbero essere. Ora voi avrete mostrato, per esempio, il caso di questa, credo che fosse una detta comunale, che ha detto che sono indietro di un mese sulle pratiche. Ci sono altri comuni che invece si sono attrezzati, per esempio, con dei chatbot di risposta automatica, ed erogano, per esempio, Siena, automaticamente i certificati, guidando all'interno del sito gli utenti. Mi dato che purtroppo sono eccezioni? Prego. Mi dato che purtroppo sono eccezioni? Sono delle eccellenze che devono aumentare dal mio punto di vista. Sono delle eccellenze positive. Io tendo a notare di più la foresta che cresce che l'albero che cade. Per cui ci sono sicuramente delle cose che non funzionano. Io non lo nego, l'ho detto anche al presidente di Ancebuia. Ci sono delle cose che non hanno funzionato alla perfezione. Però non per questo dobbiamo abbandonare un esperimento che nel privato è positivo e fa sì che effettivamente i dipendenti lavorino meglio. Con le dovute accortezze dobbiamo trasferirle all'interno del pubblico. Non sempre e non dappertutto. Prego. Non sempre e non dappertutto. Io non farei questa distinzione così netta tra pubblico e privato. No, erano un esempio. Anche nel privato ci sono delle deficienze, insomma. Però se vediamo, per esempio, gli attestati che ha fatto, le ricerche che ha fatto la Bocconi o il Politecnico di Milano, attestano che c'è stato un aumento della produttività nel privato. Io dico solo, proviamo ad esportare ciò che c'è di positivo con gli adattamenti del caso, perché è una grande possibilità per la pubblica amministrazione. Noi possiamo digitalizzarli, ma se non innoviamo anche la modalità di lavorare, non formiamo le persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, effettivamente non riusciremo a renderla il traino che vogliamo che sia. Però noi stiamo parlando come se invece di lavorare in un ufficio pubblico si rafforasse in un ufficio che sta a casa. Ora, lei capisce che c'è chi sta in casa e comode, si può isolare e può lavorare. Ma molte persone vivono in pochi metri quadrati, con un figlio che magari non va a scuola, con una persona eccetera, ma come fanno a lavorare? Ma certo, ma guardi che il lavoro da casa è stato utilizzato in una fase nella quale era impossibile uscire da casa e bisognava garantire il servizio. A regime, quindi diciamo da gennaio in avanti, l'idea è di mettere a disposizione degli spazi anche all'interno delle amministrazioni nelle quali le professionalità si possano incontrare. Se una persona preferisce, ci sono, guardi, per esempio le aziende private fanno questi spazi, evitano gli uffici chiusi tra di loro e creano degli spazi aperti e condivisi nei quali all'interno dell'amministrazione si può lavorare insieme per fare le esperienze. Sì, sostanzialmente è una modalità più intelligente ma perché si basa sugli obiettivi, non perché ti permette di fare ciò che vuoi. Ecco, io vorrei evitare questo equivoco per cui smart working si traduca in chiudere le serrande della pubblica amministrazione e lavorare da casa. Allora, riprendiamo porta a porta. Il sindaco di Messina ci ha appena detto che quando i lavoratori lavorano in smart working non c'è nemmeno in questo momento nemmeno il controllo dell'orario di lavoro. Abbiamo qua il ministro competente, è così. Quindi uno fa quello che gli pare. No, non è così. Cambia proprio la modalità, semplicemente. A me, ma penso anche a lei, non interessa sapere quante ore un dipendente sta sulla scrivania, a me interessa che eroghi le pratiche. Questa è una modalità di lavoro che mi rendo conto è innovativa, è complicata. L'abbiamo introdotta in un momento nel quale c'era un lockdown completo, nel quale la banda larga non era estesa su tutto il territorio perché era una fase emergenziale. Ora, io intendo portarla avanti da qui in avanti mi stupisce onestamente quello che dice il sindaco anche perché le attività indifferibili si potevano continuare a fare dal vivo quindi era sufficiente richiamare le persone all'interno degli uffici. Dipende dal livello di digitalizzazione. Lei cita il caso di Messina, io cito il caso di città metropolitana di Torino che in quattro giorni ha digitalizzato tutti e ha messo tutto, non ho detto il sindaco di Torino non può dimenticare che l'Italia è lunga. Non può dimenticare che l'Italia è lunga. Certo, ed è fatta di aree interne e di grandi comuni. Paradossalmente anche certe aree interne in base però anche all'energia dei dirigenti che organizzavano gli uffici si sono riusciti a riadattare oppure no. È chiaro che è un cambiamento culturale importante che fa superare alcuni documenti. Lo sta dicendo il Ministro in maniera molto elegante che se lei non si è riadattato, se il Comune di Messina non si è riadattato in fondo la colpa è sua. Diciamo le cose come stanno. Questo è lo sta dicendo. Il Ministro non mi ha risposto, il Direttore del Ministro non mi ha risposto a una semplice osservazione perché prima di introdurre questa modalità per la quale non siamo tutti pronti e non per colpa nostra perché invece non si è proceduto a modificare l'orario di lavoro e quindi fare mattina pomeriggio e sabato mattina così intanto ci si preparava alla nuova fase. State così spaccando ulteriormente l'Italia perché sapete anche che la banda larga nel meridione non è presente nelle zone soprattutto anche interne quindi anche questo è un'ulteriore disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratore. Questo è il tema. Ecco perché non è pensabile che all'improvviso si vada avanti. Mi spiace controbatterla però in realtà la flessibilità di orario era già prevista in una circolare precedente. Questo è un decreto ministeriale che dovrebbe aiutare i dirigenti a organizzare su una base di una norma di legge quindi non me la sono inventata. Io ho passato anche dal Parlamento con le modifiche disposte da Camera e Senato e vi è scritta la flessibilità di orario in eccesso e in uscita chiaramente con i limiti di quella che è la contrattazione odierna perché a differenza di quello che sostiene qualcuno non andrei mai oltre il limite di quello che è stato disposto dalla contrattazione sindacale a sistema vigente. Quando si apriranno i tavoli di contrattazione sindacale... non controllo una parola brutta ma insomma una interazione telefonica mentre il capo dell'ufficio sta nella sede i suoi collaboratori stanno a casa lui li chiama cioè poi lui dice c'è questo funziona insomma. Certo che ci deve essere e questo dipende però se posso dirla anche qui dal dirigente ma non è vero ministro scusi che ha l'onore ma anche l'onere di organizzare il lavoro perché non si può essere solo dirigenti e poi non monitorare che cosa... però un conto è monitorarlo passando in ufficio guardando che è seduto sulla scrivania e il monitoraggio finisce qui un altro è invece sapere che uno lavora da remoto quindi interrogarlo più volte lungo la giornata o lungo la settimana rispetto a cosa fa io so che molti dirigenti stanno facendo la reportistica poi il caso specifico del comune amministrato dal sindaco di Messina domani lo approfondirò. Guardi sarà una bella cosa però prima finisce meglio è lo smart working veramente perché non lo so c'è anche bisogno di vedersi di guardarsi in faccia credo che prima entra a regime meglio è nel senso che lo smart working a regime sarà uno due giorni a settimana con necessariamente della presenza fisica in ufficio perché mai potrei pensare di tirare giù le serrande rispetto invece al discorso degli esercenti commerciali è chiaro che fa male vedere dei ristoranti che hanno dei problemi di barca hanno dei problemi così grandi che purtroppo sono legati alla crisi pandemica che ha creato un effetto cascata devastante sull'economia e che ha creato anche timore della gente in questo momento nell'entrare nel bar e nella ristorazione io rispetto però al lavoro agile che abbiamo visto nella fase pandemica quindi quello in cui la gente era chiusa a casa ricordo che quella è una fase emergenziale e che comunque è anche strano il fatto che oggi vivano di sera le periferie dove la gente vive e di giorno i centri e il fatto che ci sia questa Italia che va a due velocità non è neanche questa una cosa tanto funzionante delle città turiste a cominciare da Roma è morto e hanno ripreso fiato un po' le periferie questo è esatto bisogna purtroppo i cambiamenti epocali così vanno accompagnati sotto più punti di vista allora chiudiamo con due vignette che le ha dedicato il nostro oscio vediamole però non fate come in ufficio a casa vi mettete a lavorare sul serio la seconda buono che papà sta a lavorare ma se non fai mai niente manchi in ufficio bene grazie ministro grazie ai nostri ospiti grazie a voi